Oggi col notaio Giorgia Manzini parliamo di matrimonio e patrimonio. Spesso i rapporti affettivi e le nostre condotte amorose pesano sul nostro patrimonio. Il diritto deve dirimere casi in cui le ragioni del cuore costano care. E così la giurisprudenza interviene per regolare gli aspetti patrimoniali di situazioni che spesso sono una sconfitta per tutti i soggetti coinvolti. In questo caso anche il notaio può aiutare. Dottoressa Manzini, vediamo innanzitutto quanto pesa oggi l'assegno divorzile a carico di un ex coniuge e a favore dell'altro, dopo la risoluzione del contrasto giurisprudenziale ad opera delle sezioni unite della Cassazione nel 2018. Un divorzio o una separazione pesano meno che in passato sicuramente, ma comunque pesano sempre nei confronti del coniuge, definiamolo forte, non parliamo di lui e lei, perché si tratta di coniuge più forte economicamente e di coniuge debole. Sapete come si dice, il matrimonio si scioglie con il divorzio, ma il divorzio spesso è indissolubile e il divorzio viene anche considerato roba da ricchi, secondo le statistiche, perché il tenore di vita di tutta la famiglia cala inevitabilmente. Come nasce l'assegno divorzile? L'esigenza nacque con la legge del 1970, la legge sul divorzio, per compensare il coniuge debole che all'epoca normalmente era la donna e quindi veniva definito in relazione alle condizioni economiche dei coniugi, alle ragioni della decisione di separarsi, ai redditi di entrambi e al contributo economico e personale dei coniugi. È intervenuta la Cassazione a sezioni unite nel 2018, nel noto caso del divorzio Grilli, poi abbiamo conosciuto altri casi di divorzi importanti e nel 2018 la Cassazione ha affermato che il coniuge forte non deve più garantire lo stesso tenore di vita al coniuge più debole economicamente, perché l'assegno divorzile deve essere corrisposto secondo il criterio assistenziale, risarcitorio e compensativo. Quindi le cose sono cambiate, si è andate verso una direzione di parità e di minor assistenzialismo, ma poi la Cassazione ha cambiato orientamento. Quindi comunque in Italia ancora molto forte la tutela del coniuge economicamente meno indipendente che normalmente la donna. Ma l'infedeltà nel matrimonio è ancora considerata così grave ed è così diffusa nelle separazioni fra coniugi? L'infedeltà fra coniugi è molto diffusa secondo le statistiche e a quanto pare spesso è reciproca. Sul punto è intervenuta un'ordinanza della Corte di Cassazione, depositata il 15 ottobre, che ha stabilito quando l'infedeltà diventa causa di addebito nella separazione personale fra coniugi e quindi nel caso di tradimenti reciproci i messaggi hot della moglie non bastano per addebitarle la separazione. Ha affermato la Cassazione che questo tradimento successivo non è stato dimostrato che fosse la causa della incompatibilità e della improcedibilità della convivenza fra i coniugi e dunque la Cassazione ha riconosciuto il diritto della donna all'assegno divorzile, il diritto all'assegnazione della casa coniugale in presenza di un minore, sostenendo che deve essere provato il nesso di causalità fra l'infedeltà del coniuge e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Diversamente se il tradimento è solo una conseguenza di questa situazione di scontentezza nel matrimonio, di conflitto, di situazione di grave disagio personale, allora in questo caso i diritti patrimoniali non vengono meno. Ma la nuova relazione dell'ex moglie influisce sull'assegno divorzile e intervenuta su questo aspetto la Corte di Cassazione con un'ordinanza del 16 ottobre per affermare che la nuova convivenza moreuxorio, se hai carattere di continuità e stabilità, influisce sull'assegno divorzile dell'ex marito della donna, si trattava in questo caso della donna che ha intrapreso un nuovo rapporto stabile. Tuttavia se mancano questi requisiti di famiglia di fatto, famiglia moreuxorio, quindi di stabilità e di convivenza continuativa, una nuova relazione personale non influisce e non libera l'ex marito dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile. Lo scorso agosto è intervenuta una rivoluzionaria pronuncia della Cassazione sul tema del mantenimento dei figli maggiorenni, che delegittima la prassi attuale su aspetti sostanziali. Di che cosa si tratta? Lo scorso agosto questa ordinanza della Corte di Cassazione è passata un po' inosservata, ma i commentatori hanno gridato alla rivoluzione favorevolmente perché la Cassazione in questa pronuncia di agosto ha invertito l'onere della prova addossandolo al figlio, cioè è il figlio maggiorenne, in questo caso si trattava di un'ultra trentenne, che deve dimostrare di non essere economicamente autosufficiente, quindi di non poter trovare sbocchi lavorativi secondo la propria formazione professionale. Ha affermato la Cassazione quindi che questi giovani iper scolarizzati, che magari continuano a studiare anche molto a lungo e hanno una sorta di rifiuto per un mondo del lavoro che non corrisponde evidentemente alle proprie aspettative adolescenziali, devono comunque tenere conto del principio di solidarietà verso i genitori, che in base alla loro situazione economica non possono essere obbligati a un mantenimento così prolungato. Ma questo orientamento per certi versi rivoluzionario è stato sovvertito da una recente ordinanza sempre della Corte di Cassazione del 9 ottobre scorso. Qui la Suprema Corte ha affermato che il figlio quasi trentenne non libera il padre dall'obbligo del mantenimento, se il padre quindi ha riportato l'onere della prova a carico dell'obbligato, parliamo del padre perché è la situazione più consueta, il genitore più forte economicamente, se il padre appunto non dimostra, non dà la prova che il figlio è inerte e che non si immette per propria colpa nel mondo del lavoro. Diversamente deve essere rispettata la formazione del ragazzo e il genitore deve continuare a corrispondere l'assegno di mantenimento anche per questi ultratrentenni. Dopo la crisi coniugale si può addivenire alla volontà di distruggere il testamento predisposto su un assetto familiare naufragato. Come funziona giuridicamente? Anche su questo tema è intervenuta la Corte di Cassazione con un'ordinanza del 14 ottobre su un caso piuttosto consueto e monotono di una donna in possesso di un testamento olografo, in questo caso solo in fotocopia, in cui un uomo deceduto con cui ha avuto una relazione sentimentale, regolarmente sposato e con dei figli, nominava questa signora come erede. In questo caso naturalmente gli eredi legittimi si sono opposti alle richieste della donna. Qual era il tema dibattuto? Che questa signora era in possesso solo di una fotocopia del testamento olografo con apposti alcuni codicilli, cioè delle aggiunte a mano del defunto. Questo testamento, seppur in fotocopia, era stato pubblicato da un notaio. I notai hanno l'obbligo di procedere a certi adempimenti e quindi la Corte di Cassazione ha affermato questi principi, che se un testamento scompare prevale una presunzione di legge per cui c'è una sorta di revocatacita ad opera del testatore che equivale alla distruzione del testamento. La scheda testamentaria vale in originale, la fotocopia non è analoga all'originale. C'è una norma nel Codice Civile che regola questa materia molto interessante e molto antica della revoca testamentaria tacita e della manifestazione indiretta dell'intento di rendere inefficace il precedente testamento, su cui mi permetto di segnalare un mio saggio pubblicato in età giovanile ma sempre attuale perché la disciplina non è cambiata. Come funziona in questi casi? Se il testamento sparisce o viene distrutto giuridicamente si tratta di revocatacita del testamento. Il testamento può essere revocato anche espressamente con una dichiarazione espressa ma nella maggior parte dei casi quando si redige un testamento la situazione può cambiare. Per esempio il testatore può vendere un bene che è assegnato a un soggetto e anche in questo caso si tratta di revocatacita. Nel nostro caso sempre di famiglia così in crisi e hanno avuto la meglio gli eredi legittimi e la moglie effettiva. Questo perché? Perché la signora era in possesso solo di una fotocopia e quindi la Corte di Cassazione ha stabilito che se un testamento non si trova si deve presumere in modo solo relativo iuris tantum e cioè ammessa la prova contraria che il testatore abbia inteso distruggere questo testamento. Inoltre si deve presumere ulteriormente sempre fino a prova contraria che il testatore aveva intenzione di revocare quel testamento dunque la signora non è riuscita a dimostrare che il testamento in originale esisteva alla morte del testatore e che quindi non poteva essere stato lui a distruggerlo o a disperderlo. Anche le donazioni di beni possono essere uno strumento di sistemazione patrimoniale di un nucleo familiare che cambia stato. Ci sono agevolazioni fiscali in questo caso? Parliamo appunto di trasferimenti immobiliari fra coniugi in sede di separazione o di divorzio per la sistemazione dei rapporti patrimoniali fra gli stessi. Questo è un trasferimento immobiliare che è sopravvissuto al colpo di spugna che il legislatore fiscale ha dato nel 2014 sulle agevolazioni fiscali. Quindi nei trasferimenti fra coniugi in esecuzione delle condizioni della separazione o del divorzio abbiamo un'agevolazione fiscale di quasi totale esenzione dalle imposte ma c'è una conseguenza. Se questo trasferimento fra coniugi la moglie che cede la quota di un mezzo dell'abitazione familiare al marito che si accolla al mutuo e paga eventualmente un prezzo e ecco in questo caso se tutto ciò avviene nei primi cinque anni c'è una decadenza dai benefici prima casa spesso richiesti dai coniugi in sede di acquisto. È intervenuta anche in questo caso un'ordinanza della Cassazione del marzo 2019 che ha affermato che in questo specifico caso anche se si vende a terzi e questa quota o l'intero immobile non viene scambiato fra coniugi ma viene venduto a un terzo non si decade dall'agevolazione prima casa quindi il cedente non deve riacquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno. Questo perché non si tratta di un vero caso di forza maggiore ma si tratta di una modalità per porre fine alla crisi familiare che è meritevole di tutela. Ci sono poi altri casi che vediamo spesso noi notai di donazioni in famiglia in queste famiglie in crisi al di fuori dei trasferimenti di cui abbiamo detto quelli previsti nelle condizioni della separazione. Spesso un coniuge che si sta separando in testa attraverso una donazione gli immobili ai figli parte degli immobili insomma si compie già una sorta di anticipo di eredità, si dà un assetto patrimoniale agli immobili familiari. Ecco in questo caso ricordiamo sempre che sono atti che hanno le consuite agevolazioni delle donazioni e cioè la franchigia di legge altissima tutt'ora in vigore fra parenti in linearetto fra coniugi di un milione di euro per soggetto. Inoltre ricordiamo anche che si possono chiedere i benefici prima casa in questi casi e basta che uno solo dei nostri donatari cioè dei soggetti che acquistano l'immobile ne abbia diritto il beneficio si estende a tutti gli altri. Salve poi le problematiche civilistiche inerenti all'atto di donazione in sede di circolazione dei beni.